Salve a tutti, sono Marco Casari e benvenuti a questo nuovo episodio dedicato all'analisi tecnica e pattern armonici. In questo video voglio parlarvi di uno strumento che vedo affascina un po' tutti quando parlo di Fibonacci, del Fibonacci Trading e del ritracciamento dei Fibonacci, vedo sempre rimanere i trader estremamente affascinati. Io stesso sono uno di quelli che tanti anni fa rimase affascinato da questo strumento, soprattutto perché una volta che ne capì l'utilizzo mi ha permesso di capire come e quanto i mercati, che prima mi sembravano muoversi in maniera così disordinata e randomica, si muovono invece in maniera estremamente armonica e come utilizzino questi livelli di Fibonacci come supporti o resistenze, fondamentalmente come punti su cui il prezzo rimbalza e che quindi il prezzo sente in una certa modalità per poi comportarsi in un determinato modo. Soprattutto perché poi i livelli di Fibonacci mi hanno permesso di approfondire discorsi e concetti come i pattern armonici che si trovano all'interno del mio portafoglio di investimenti per quanto riguarda il trading online. E quindi quello di Fibonacci è uno strumento estremamente utile, però come tutti gli strumenti va utilizzato nella maniera appropriata. In questo video voglio svelarvi qual è il segreto principale nell'utilizzo di Fibonacci, dei suoi livelli e del suo ritracciamento. Voglio farvi capire per quale motivo moltissimi trader lo usano nel modo sbagliato e invece quale deve essere l'approccio giusto per utilizzarlo e soprattutto trarne i maggiori benefici. Bene, il segreto principale è che Fibonacci va considerato come uno strumento, è un tool che il trader ha nelle proprie mani. Non è qualcosa di definitivo, è qualcosa di magico, di mistico, che ci permette di, una volta applicato, di capire, scoprire, prevedere il futuro e come si dovrà muovere un determinato mercato finanziario. È semplicemente uno strumento, va preso e va trattato come tale. È uno strumento come potrebbe essere un indicatore, non so, mi viene in mente il Relative Strength Index, l'RSI, piuttosto che il Leverage True Range, sono oscillatori, indicatori che possono darci indicazioni molto precise, ma da soli applicati in un contesto senza fare nessun'altra valutazione possono anche rischiare di intaccare il nostro capitale se investiamo, decidiamo di entrare a mercato basandoci esclusivamente su questi valori. Stesso discorso per Fibonacci, i livelli di Fibonacci devono essere utilizzati, bisogna avere un approccio nell'utilizzo del ritracciamento di Fibonacci, appunto è uno strumento che abbiamo a disposizione, per aiutarci ad avere un'indicazione ulteriore, per esempio per decidere dove posizionare Stop Loss e Take Profit e quindi possono indicarci qual è il livello successivo dove il prezzo potrebbe probabilisticamente, statisticamente andare a soffermarsi, lo possiamo utilizzare per andare a identificare pattern armonici su quali però poi dobbiamo applicare delle nostre strategie, lo possiamo andare ad utilizzare per cercare di capire per esempio dove potrebbe fermarsi l'estensione di un determinato mercato che si sta muovendo in un trend rialzista o ribassista. Insomma i livelli di Fibonacci e il ritracciamento di Fibonacci è uno strumento va usato come tale, va usato soprattutto accoppiato ad altri strumenti che possono quindi aumentare che cosa? Aumentare le probabilità dell'idea di trading che abbiamo su un determinato mercato e a darci, come dico spesso durante i miei video, a fornirci un vantaggio statistico perché aumentano appunto le nostre statistiche, le probabilità che la nostra idea di trading possa trovare nel futuro, possa trovare il riferimento che noi abbiamo individuato con la nostra ipotesi, con la nostra idea. Bene, ma smettiamo di parlare di teoria e andiamo a vederlo un po' sui mercati. Andiamo a vedere qual è l'approccio giusto per applicare Fibonacci e il ritracciamento di Fibonacci, come usare i suoi livelli per cercare di capire come potrebbe muoversi nel futuro il mercato, però incastrato in un contesto ben più ampio di studio e analisi del mercato che andiamo a prendere sotto esame. Vediamo gli esempi di oggi. Partiamo da un esempio concreto, guardate, sono sul mercato dell'euro nei confronti dello yen, time frame a 4 ore e guardate qui che cosa ha fatto questo mercato, ha cominciato a creare degli impulsi rialzisti, vedete, dopo questo primo momento in cui ha stagnato un po' e venivamo in realtà fuori da un trend ribassista, se adesso torno indietro sul grafico, il prezzo ha cominciato a fare cosa? Guardate, ha cominciato a creare delle nuove strutture a rialzo e dei ritracciamenti, vedete, nuova struttura a rialzo, ritracciamento, questa è una nuova struttura a rialzo e poi un ritracciamento, un ritracciamento anche molto profondo con questo spike, comunque disegniamolo, ritracciamento, nuovo impulso rialzista, nuovo ritracciamento e poi ha cominciato a muoversi in maniera piuttosto strutturata, vedete, adesso vi faccio vedere che cosa intendo per un movimento strutturato, guardate, vi faccio notare che mano a mano che cresceva in questo trend rialzista, guardate, i nuovi impulsi, i nuovi impulsi che venivano creati e il loro ritracciamento poggiava, si poggiava su che cosa? Si poggiava sui massimi precedenti, che in precedenza erano stati appunto utilizzati come resistenza e adesso vengono utilizzati come supporto, vedete qua, di nuovo, ritracciamento e outside return, ovvero, scusate, impulso rialzista e outside return, ovvero ritracciamento, questa è una nuova struttura dei massimi, di nuovo, dove si è andato ad appoggiare questo ritracciamento, si è andato ad appoggiare sui massimi precedenti e adesso li usa come, prima come resistenza, adesso come supporto, infatti che cosa ha creato? Ha creato quest'altro piccolo impulso, di nuovo, ritracciamento e ancora impulso e ancora ritracciamento. Bene, vedete che questi grossi movimenti, fatemi tracciare anche l'ultimo, nuovo impulso rialzista, nuovo ritracciamento, anche qua il ritracciamento che è avvenuto, a parte questo spike che evidentemente è in concomitanza di che cosa? Sarà stata in concomitanza di una notizia per cui c'è stato questo grosso spike, vedete come si è mosso in maniera, direi, strutturata il mercato. Bene, fatta questa prima analisi che ci fa identificare che cosa sta succedendo sul mercato, prima domanda a cui ci dobbiamo rispondere, è un mercato che si sta muovendo in maniera strutturata o non strutturata? Bene, in questo caso abbiamo un mercato che si muove in maniera strutturata, il mercato sta consolidando o si sta muovendo, seguendo un trend? E in questo caso abbiamo iniziato sul time frame a 4 ore un trend rialzista. Bene, adesso immaginiamo di trovarci in, non so, fermiamoci, andiamo a vedere prima, fatemi portarvi prima l'esempio, guardate, vi porto l'esempio di questo appunto movimento, simulando il movimento che abbiamo visto poco fa, quindi impulso rialzista, outside return, secondo impulso rialzista, outside return, ovvero ritracciamento, disegniamone 3. E facciamolo tratteggiato questo, facciamolo con una freccia tratteggiata. Io a questo punto mi aspetto, per come si sta muovendo il mercato, mi aspetto che ci sia un movimento rialzista. Bene, guardate come si può in questo scenario utilizzare Fibonacci a nostro vantaggio, ovvero, guardate, qui prima di tutto mi traccio il primo impulso dal swing low allo swing high e guardo dove si poggia questo ritracciamento. Bene, questo ritracciamento si è poggiato tra il livello 38 e 2 e 50 di Fibonacci. Bene, quindi ritracciamento su quella linea. Dove è andato a finire invece il mio impulso rialzista? Tra il 127 e il 141 che qui non è segnato, però posso andare a segnarmelo, fatemi vedere se ce l'ho già attivo, 1,41. Eccolo qui. E facciamocelo di un altro colore, facciamolo viola. Ok. Vedete che il mio, diciamo, il mio ritracciamento è avvenuto tra il 127 e il 141, che sono due livelli di Fibonacci che di solito dal mercato vengono sentiti in questo tipo di movimento. Bene, come posso usare queste informazioni? Le posso usare semplicemente per prevedere dove si può andare a poggiare o dove posso andare ad inserire il mio take profit, però partendo dal presupposto, già da un'idea che mi sono fatto dal movimento del mercato, ovvero che il mercato si continui a muovere e a rialzo perché lo ha fatto fino adesso, si è mosso in questa maniera strutturata. E andare a capire quindi, in base a quest'idea, dov'è che posso andare a posizionare il take profit, perché potrei banalmente fare, ipotizzare un movimento che è uguale a quello precedente. Quindi che cosa ho fatto? Ho copiato questa linea, l'ho incollata qui e quindi di dire, ok, il mio take profit potrebbe stare orientativamente su questo livello, basandomi sul presupposto che avrò una stessa intensità rialzista come profondità di rialzo del movimento precedente. Oppure posso usare, e posso sicuramente farlo, è valido questo ragionamento, oppure posso andare a dire, visto che si sta muovendo in maniera strutturata, io posiziono il mio take profit tra il livello 127 e 141, esattamente come è successo prima. Non a caso, guardate, vedete che questo impulso si posiziona proprio sul livello 141 di prima, quindi potrei decidere di andare a mettere il mio take profit qua. Vedete come sto usando questa volta lo strumento, il livello di Fibonacci, come tool per capire come è meglio posizionare, in questo caso, i miei take profit, ok? Potrei farlo per per esempio valutare dove andare a posizionare il mio stop loss, quindi immaginiamo di trovarci in questa situazione, e adesso qui, per esempio, sta cominciando il mio ritracciamento, che cosa so? So che, muovendosi in maniera strutturata, so che il ritracciamento dovrebbe essere compreso tra questi due livelli, quindi il mio ritracciamento dovrebbe poter prendere e rimbalzare da qui a qui, quindi in questo range di valori. Bene, potrei usare per esempio Fibonacci per dire il mio ingresso a mercato, ipotizzando questa idea, si può andare a verificare tra il livello, non so, dico qua, tra il 38,2 e il livello 78,6, quindi potrei valutare qua dove posizionare il mio ingresso a mercato. Vedete come le varie tecniche ci permettono di utilizzare lo strumento Fibonacci in questo caso per posizionare i nostri take profit e stop loss, partendo però da delle idee concrete che ci siamo fatti andando ad analizzare il grafico. Vediamo che cosa sarebbe successo qui. Prendiamoci quest'area qui, quindi dal momento in cui il mercato da qui ha preso e ha fatto il primo impulso, guardate, dove è posizionato il nostro, fatemi zoomare un pochino per farvelo vedere meglio, dove è posizionato il nostro ritracciamento, oltre che sulla struttura di prima, tocca il 38,2 e il 50, il livello 50 di Fibonacci per poi partire con l'impulso. Ok, e immaginiamo di trovarci in questa situazione. Quindi io sto qui, se volessi andare a cercare di prevedere dove è che potrebbe arrivare in questo trend di alzista il mercato, che cosa faccio? Prendo Fibonacci, in questo caso l'inversione, quindi ritraccio dallo swing high allo swing low e vado a vedere intorno, andrei a posizionare, a ipotizzare un profitto o comunque un impulso rialzista che è tra il 127 e il 141. E guardate che cosa è successo, infatti, il mio impulso rialzista si è praticamente poggiato sul livello, andiamolo a disegnare, forse è meglio, ecco ve lo faccio sviluppare a destra, vedete che si è andato praticamente quasi ad appoggiare al 127 prima di fare questo ritracciamento e poi questo nuovo impulso. Vedete come usare, e possiamo, guardate, posso aggiungere anche un altro indicatore di nuovo per cercare di andare a trovare, ad avere un vantaggio statistico. Che cosa succede quando qua io mi trovo sull'impulso sul livello, immaginiamo qui di essere sul livello 127, qui di, no, questo è l'impulso nostro, eccolo qui, su questo impulso qua, ve lo vado ad indicare sull'RSI, quindi con una freccia, io qui sto sul 127, diciamo qui, eccolo qui. Vedete che cosa succede? Succede che il mio RSI, il mio RSI, il Relative Strength Index, sta in situazione di overbought, e infatti poi c'è un ritracciamento, vedete che infatti poi scende. Ecco, vedete che cosa vuol dire quando vi dico usare, in questo caso Fibonacci come strumento per validare, o viceversa invalidare, o per ottimizzare l'uscita da un'operazione, perché quello è Fibonacci, è solo uno strumento, e va usato in questo modo. Stesso ragionamento lo posso andare, guardate, stavo controllando un'operazione che avevo messo a mercato con lo stesso approccio sul dollaro australiano nei confronti del dollaro americano. Ecco, qui, vedete, c'era stato un breakout, c'era stato un breakout che si era verificato su un triangolo, quindi analisi tecnica questa volta, triangolo simmetrico, rotto al ribasso, ero sceso di time frame su quattro ore, per andare per esempio a vedere dove posizionare, che cosa? Dove posizionare un eventuale impulso ribassista che dopo questo primo impulso si poteva verificare, e l'avevo fatto proprio andandomi a calcolare, eccolo qui, vedete, qui ho il mio 127, quindi il impulso rialzista poteva fermarsi su questo livello. Vedete come utilizzo Fibonacci per crearmi un vantaggio statistico ad avere maggiori probabilità di profitto, oppure di entrata a mercato, oppure di posizionamento dello stop loss. Quindi cominciare ad esercitarvi e avendo però chiaro in mente come usare questo strumento. Bene, per oggi è tutto, noi ci vediamo è tutto e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!